buona sera a tutti ben ritrovati ancora con potismo atletica insieme a moreno sinatti e fabio sinatti che commenteranno diciamo le manifestazioni che sono disputate dalla fine di settembre alla metà di ottobre e qui siamo passati moreno subito alla prima edizione della corri perdono nel comune di terra nota una gazione della fiera del perdono che è una fiera grossissima quindi quest'anno hanno provato a fare questa gara effettivamente è riuscita bene anche questa c'erano due distanze da percorrere una di circa 10 km quell'altra quasi del doppio ma poi considerando che è stata fatta di sabato mattina quindi c'era proprio anche l'incertezza di sapere se una gara fatta di sabato mattina potesse accogliere tanti partecipanti io ero titubante un pochino perché sabato mattina di forse però dato lo spazio che avevano era solo per il sabato mattina perché la grandissima affluenza di persone che vanno a questa fiera non avrebbero dato i permessi per poter fare in un altro in un altro orario e direi anche come percorso tutto sommato un bel percorso perché poi costeggiava un pochino quel torrente lì delle che costeggia siamo terranova ma soprattutto tutto una zona priva di traffico assolutamente insomma piste tutte piste ciclabili pensa anche strade dove passano le macchine che però non passano perché c'è pochissimo traffico ecco qui siamo quando ci mettiamo proprio nella pista ciclabile sì sì no ma percorso era movimentato è un bel caldo che e comunque sia diciamo che è stata apprezzata da molti sia dal punto di vista diciamo dell'organizzazione curata benissimo direi dalla dalla uisp terranovese diciamo soprattutto da lazzerini massimiliano che è stato un po quello quello che ha tirato che ha voluto questa gara effettivamente dopo insomma è stato ricompensato insomma si vedeva che a fine manifestazione era soddisfatto perché era andato tutto bene la gente contenta quindi quando succede questo va bene e poi direi anche da un punto di vista qualitativo tecnico c'erano questa gente insomma quindi è stata buona siamo tutti questi sia a livello di partecipazione che di qualità esatto e qui ecco che chiaramente vediamo una carrellata diciamo di atleti che ripartendo da dietro si riportano verso la diciamo nella testa della del gruppo che poi a metà percorso sarebbe diviso per la 9 km e per la 18 quindi una gara direi con doppia possibilità qui intanto vediamo il gruppetto femminile con la scena inigenziana la canuto e la romanelli diciamo a contendersi un po la leadership di questa gara alcuni però di questi facevano la 18 altri facevano la 9 km però ecco da qui già si vede che anche il livello femminile tutto sommato era positivo qui vediamo fabio guidelli che è rientrata alla grande quest'anno ha fatto qualche gara in più rispetto agli anni in questo ultimo periodo sta preparandosi molto bene si sta portando anche per per la mezza maratona poi aveva visto tartaglini poi la bicicletta è per l'usì vittorio invece che non si vede più a correre a piedi e si è data la bicicletta e qui diciamo nel periodo in cui emanuele graziani diciamo nella sua diciamo momento migliore stagionale ecco per quanto riguarda questa cosa facevano a 18 era già in vantaggio rispetto anche a quelli che facevano a 9 qui c'era graziani e vannuccini che è qui lotta serratissima per il grand prix perché a questo punto c'è stato uno scavalcamento proprio del di alessandro annetti poi avevamo visto di tantana se tartaglini scavalcamento su su vannuccini ma di pochissimi punti viene ancora lotta serratissima per la vittoria del grand prix saranno le ultime le ultime tre gare a decidere tutto sì che sono tre gare ma tre gare importanti fra i quali la mezza maratona tra le ultime quattro sono sono quattro gare ancora sono rimasti però la mezza maratona sicuramente quella che deciderà deciderà più di tutti perché è quella più partecipata e al tempo stesso anche la gara del trail di lignano che purteggio triplo l'ultima gara quindi anche quella sarà determinante sarà qui intanto vediamo proprio nella zona della divisione mentre qui riandiamo sulla testa dei 18 chilometri vediamo la romanelli insieme alla canuto la giovane atleta diciamo di ponticino che gareggia con i colori del massimiliano l'azienda con i colori dell'atletica castello è andata molto forte che sta andando molto forte quest'anno ha fatto veramente un'annata particolarmente campestre è andata benissimo poi dopo sicuramente noi noi abbiamo vista di meno però si è andata corse su strada e qui siamo tartaglini taras che lottavano veramente per la lotta per il secondo posto perché davanti emanuele graziani veramente è in un periodo d'oro in questo momento qui diciamo della stagione lo vediamo proprio spingere molto tranquillamente anche se poi a volte poteva anche risparmiarsi però gli stacchi non sono ancora consistenti pertanto doveva controllare il compagno di squadra e poi cristian taras subito dietro qui intanto vediamo l'arrivo di alessandro annetti che invece lui faceva la 9 chilometri insieme a fabio guidelli quindi un'altra coppia della società l'arrivo è stato fatto fuori dal paese proprio per il motivo che dentro non si poteva più entrare alessandro vannuccini dico francesco vannuccini poi lorenzo more che direi ha fatto una stagione eccezionale e sempre poi costantemente nelle posizioni di testa ecco che poi vediamo con il 217 bernini michelangelo della sedeca futura poi i refi quindi questi ecco che vediamo poi serluca poi allori che ovviamente con questo passo ormai conosciutissimo lo vediamo sempre nelle arveccia poi brandini un altro e qui l'arrivo anche della prima donna quindi per genziana cenni che quest'anno veramente ha fatto molte più gare anche lei è tanto più francesca sì che è stata battuta cacchio c'era molte volte vanno vince lei arriva seconda quell'altra si si è qui si alternano un pochino ecco quindi c'è una specie di rivalità quasi costante continua qui intanto orsini che fa sempre la volata nei confronti della più diretta per questo caso qui c'è la sanarelli con gli occhiali a specchio quindi giornata veramente anche calda e solare e pertanto ha dato anche questa impressione schicchi marco qui vediamo proprio non susseguirsi di di arrivi e l'arrivo era favorevole questi cinquante metri però lì c'era questo ponte e facciamo la cunetta e qui vediamo anche la terza donna giungere al traguardo con la la quarta donna scusate con l'acqua mini patrizia della maraton club città di castello ovviamente è stata ma anche fortunato diciamo come gara perché poi sono arrivati tutti della gara della 9 e poi dopo è arrivato emanuele graziani che arriva e diciamo abbastanza tranquillo al traguardo quindi con un bel star e poi vediamo anche givina miccare che nonostante tutto le sue nove chilometri l'ha fatte anche quell'occasione lì si è fatto proprio superare nel finale da emanuele graziani altrimenti diciamo gli altri diciamo anche molti non competitivi che sono hanno partecipato a questa gara a questa gara e qui un arrivo si pensava che facesse la volata invece poi dopo sono arrivati insieme tartaglini e taras nell'ordine ecco qui poi ancora per quanto riguarda questa questa gara qui vediamo di serio massimiliano nella prospettiva atletica il giglio di firenze poi è andato molto bene anche lorenzo bucca che fra l'altro è il compagno o l'allenatore non so l'ombra di una sciocchezza di elena canuto poi abbiamo le minci che anche lui al termine delle gare molto bene molto buona poi ottanelli dell'atletica presportiva ellera e qui c'erano veramente anche diverse persone del fiorentino che eravamo abbastanza come poi smacchia luca della figlia rante in me ecco poi a seguire la romanelli romanelli che va a vincere quasi a sorpresa pensavamo che non è che la romanelli fa queste tutte le gare lunghe quindi abbastanza poi andiamo a morri e tre caratterizzano mesi e poi qui la canuto che siamo c'era se riccardo riccardo esatto e comunque la canuto che stanno ha fatto una stagione direi quasi io l'ho visto bene nelle campestie ha fatto delle campestie ecco poi vediamo anche stefano sinatti nella città io non so come mai ha fatto al 18 chilometri di solito lui predilisce quelle più brevi si vede che era in preparazione a qualche gara più lunga anche per previsione della mezza insomma voglio dire quindi avere un po' di chilometri fanno sempre comodo qui vediamo la liberatore un'altra atleta delle proprio delle lì di terranova presidente della retica del wispe terrenovese eranovese sì e qui ecco siamo passati invece con il settore giornale abbiamo visto rapidamente i ragazzini della categoria dei pulcini giugge l'altra guardo il trofeo pop che siamo il trofeo centro commerciale commerciale coppa anche questa è una giornata direi caldissima però spettacolare direi quest'anno ancora più funzionante anche sotto certi aspetti il percorso senz'altro molto positivo perché quella variante al ritorno alla fine del pionta ma anche al parco del pionta e poi nella fine sicuramente ha dato maggiore fluidità anche alla corsa se uno riesce a correre il più possibile nel parco del pionta lì è bellissimo quindi cercheremo anche la parco corsa di fare qualche metro più dentro il parco non è difficile non è facile perché dopo si comincia a intrecciarsi con c'eremo però però ecco diciamo che questo nuovo percorso ha permesso soprattutto di avere anche più tranquillità nel anche nell'attraversare le strade quindi percorsi che non davano fastidio ai mezzi e soprattutto anche gli altri stessi ci permettevano insomma di corre più in sicurezza possibile quindi c'erano diverse pattuglie del comune c'era tutti volontari anche molti volontari della croce bianca di rigutino che hanno presenziato la zona e e c'era insomma erano tante no no quest'anno è funzionato benissimo quindi direi anche sotto questo aspetto qui è stata una cosa positiva intanto vediamo la cicerone già da che va a vincere nella gara diciamo di quelli cadetti queste curva a 360 gradi 180 d'altra parte hanno permesso di lasciare libera un po la strada delle diciamo del centro commerciale qui intanto vediamo proprio alcuni tratti del percorso qui siamo a pescaiola dove concorrenti sono sono diciamo transitati per per quanto riguarda diciamo il tratto intermedio ovviamente diventava difficoltoso poter riprendere questa manifestazione perché c'erano diverse zone in cui non potevi neanche transitare sulla macchina ecco che vediamo proprio anche qui c'è stato diciamo quasi un predominio assoluto da parte di emanuele graziani che è riuscito anche in questa occasione ad andare veramente molto molto forte qui erano già trascorsi circa 4 chilometri tutti in fila erano gli atleti ecco qui anche davanti c'è la scendigenziana davanti alla volpi francesca e poi dietro barneschi e sanarelli vediamo che questi fra l'altro qui siamo proprio nel periodo in cui i concorrenti insomma devono cercare di trovare la sintesi per le prossime competizioni che vediamo emanuele graziani qui siamo nella zona del industriale la zona industriale la zona protacci davanti a fare a verni quindi vediamo graziani verni chiaramente pensavamo che forse avesse avuto più difficoltà graziani confronti di di verni che veramente forte e poi è andato molto forte direi anche alessandro annetti poi ecco questo gruppetto chi se la giocavano con vannuccini e faricanti fatti kenti poi guidelli e poi marini ecco che intanto vediamo metius insieme a rossi che inseguono a distanza questa competizione quindi questa liscendi chiaramente ha fatto poi selezioni vediamo mori invece ciambriello e poi dietro banelli no anzi si dovrebbe essere banelli e qui il traguardo nel centro commerciale che la coppia ha messo a disposizione diciamo che questa circostanza direi vantaggio non eccessivamente tanto è però forse forse ha controllato la gara fino alla fine in questo caso che vediamo anche il terzo posto di alessandro annetti che con questa gara scavalca diciamo così il compagno di squadra francesco vannuccini che fino a quel momento lì era leader delle grand prix poi vediamo fatti kenti invece colui che le realizza le classifiche e poi fabio guidelli sempre più vicino a questi atleti anche di testa poi è andato molto bene anche malvin metius che è andato benissimo qui la volata fra banelli e mori la spunta del giovane atleta diciamo della subiano marathon e poi ciambriello che sorgnone sorgnone è riuscito a succhiare qualche punto nei confronti di altri concorrenti e è passato in terza posizione e qui vediamo anche l'arrivo ecco proprio della volpi francesca che addirittura anche questo che come è capitato a montagnano come capitato in altre circostanze supera proprio nel finale genziana cenni che pensavamo anche questo caso che potesse farcela poi dopo nel finale ha perso a lei ci vogliono percorsi più duri più si proprio torta salita discesa e qui vediamo un progressivo miglioramento di francesca barneschi che risale la china dal periodo forse di inattività adesso sta ritornando un pochino alla grande poi costantemente invece nicoletta sandarelli che non ne morde mai è sempre molto forte direi che tutto sommato va benissimo e qui siamo passati invece alla maratonina la marina un'altra manifestazione leader insomma ecco per quanto riguarda il nostro circondario qui un prologo ovviamente con il settore giovanile molto nutrisi diciamo direi così le categorie giovanili anche perché proprio il problema anche di queste gare che sono inserite in un circuito anche regionale umbro e quindi molti vengono a partecipare su questa su questa competizione e ancora vediamo proprio un susseguirsi di questi di questi atleti una giornata un pochino umida con qualche piccola pioggerella però non ha diciamo influito sul rendimento della gara ma soprattutto anche sulla partecipazione sia degli atleti ma anche del pubblico presente a questa a questa competizione vediamo ancora altri atleti che si susseguono diciamo qui nella zona del traguardo una competizione che ricevamo particolarmente votata con le scuole hanno lavorato bene quindi c'è anche il paese più grande poi le fanno una volta all'anno e vuol dire tanto anche questo sono meno sfruttati anche i ragazzi sono anche ragazzi molti molti che giocano al pallone ci sono un po di sapato sera giocando e la domenica mattina sono libri però ecco qui sono c'è tutti gli anni c'è una grossa partecipazione anche a livello giovanile poi facendo questo tracciato anche che tutto in sicurezza intorno diciamo alla zona dell'arrivo ovviamente aiuta moltissimo poi dopo cercando anche di fare proprio anche l'aspetto estetico più bello possibile penso è una delle migliori che fanno in umbria come come gara a livello sia organizzativo che di partecipazione e qualitativo ecco infatti diciamo anche qui rispetto a molte competizioni ritroviamo ritroviamo atleti anche di spicco e quindi vedremo fra qualche istante diciamo quando le immagini andranno sulle sulla gara diciamo in internazionale a quel punto lì vedremo anche la partecipazione molto qualificata e nutrita da parte delle degli atleti diciamo anche stranieri in questo caso qui direi è andata molto bene anche la la partecipazione degli atleti aretini che sono ben ben comportati perché considerando che in questo caso abbiamo avuto diciamo ben ben sette atleti nei primi venti della polisportiva polisiana quindi significa che insomma tutto sommato non è non è andata non è andata male non è andata qui intanto ancora altre gare come si vede come si vede molto partecipate queste queste gare e quindi chiaro che poi aiuta anche a divertirsi di più insomma ecco quando si vede queste cose che ci sono anche più genitori in umbria le gare vengono organizzate ce n'è una sola in umbria al massimo due quindi la partecipazione è più poco si fanno un calendario insomma che di solito non si danno noi a fare l'altro oppure quella l'altra è l'antana 200 200 no ma insomma hanno la possibilità insomma di accaparrarsi tutta la gente e i ragazzi gli adulti le potenzialità riescono riescono a dare molto più vivacità e partecipazione alle alle competizioni insomma ecco e questo ovviamente aiuta anche agli organizzatori di poter affrontare anche le gare settore giorni che molto spesso invece le nostre parti è abbastanza diciamo un pochino modesto ecco perché perché quelli che fanno anche atletica poi rimangono esclusivamente nel proprio ambito non si spostano da lì non partecipano le gare diciamo competitive quindi chiaro che diventa un pochino difficile intanto vediamo anche pietro sicuramente più andiamo avanti e meno e meno sono numerosi e qui siamo invece alle gare alla gara diciamo preliminari della gara quella internazionale ovviamente c'era molta attesa ma soprattutto per quanto concerne anche la prestazione degli atleti diciamo anche di casa nostra c'erano così che si sono come abbiamo detto ben comportati ovviamente la lotta era fra gli italiani lasciando subito spazio per almeno per i primi tre o quattro cinque posti stranieri poi il resto se la giocavano insomma ecco fra atleti umbri martigiani e toscani a livello qualitativo italiano c'era una roba a livello regionale non c'erano atleti nazionali oppure vicini alla nazionale erano tutti atleti che nelle gare regionali possono fare una bella figura ma ecco dopo se vanno a fare una gara nazionale certo non c'è solitare mentre vintate loro vediamo subito ecco che si posiziona nella testa della corsa questi atleti tallonato addirittura da jassine e il calile nostro atleta che poi ovviamente ha accusato la soprattutto la il ritmo impresso dagli atleti di testa insomma ecco che vediamo jassine che sicuramente sarà uno dei nostri portacolori alla maratonina città di rezzo quindi vedremo un po quello che riuscirà a farlo anche domenica scorsa ha vinto la gara di attravo fissima di proprio a pietra lunga dove abita lui quindi e qui ecco vediamo proprio i ritmi impressi dai battistrada che sono un geno cage poi che lui e zituni che tiravano un pochino poi vediamo agi quello con la bandana che poi sarà costretto proprio a ritirarsi a un chilometro e mezzo dal traguardo quindi veramente una cosa impressionante che intanto vediamo emanuele graziani che sta inseguendo insieme anche a cardelli poi a nio la poi tartaglini alle annetti che sono andati tutti bene c'è anche tartaglini costretto a due chilometri e mezzo dal traguardo a fermarsi e qui c'è a dire che tartaglini domenica scorza pisa è arrivato sesto impiegando un'ora e tredici e speech nella mezza maratona la mezza maratona che anche quella è un po calata quest'anno sono un po calati tutti a livello di presenza anche la nostra speriamo di no ma siamo siamo sulla scia di tutte perché ce ne sono tantissime la gente si muove di meno da casa ecco qui abbiamo visto anche transitare la mongolia che è l'atleta protagonista poi qui invece abbiamo visto al secondo posto la biagetti la laura biagetti atleta umbra che va molto molto bene e qui siamo soltanto poi nana anu qui poi la abbiamo visto anche l'altra atleta umbra che corre con i colori della del fiorino ma vedete la lunga schiera di partecipanti ovviamente questa che è un numero 560 circa competitivi poi tutti non che impediti che in questo punto che venivano dirottati sulla sinistra ecco direi che comunque sia è una gara particolarmente anche se qui tosta è perché primo tratto anche questa qui è in salita poi dopo piane pianeggiante fino a fino alla zona di san giustino insomma ecco poi scende un pochino e poi risale nella parte finale che intanto vediamo gruppetto dei segretori abbiamo visto rosai insieme a sinatti stevano poi vediamo la tamburi atleta che predilige forse le distanze ancora più lunghe quindi è un po adesso un po sofferente ancora incerta se partecipare alla mezza maratona oppure no mi ha telefonato domenica sera il suo allenatore dice che mi imposto fino all'ultimo fino all'ultimo momento che non so se viene di quanto non ti preoccupare se lei se la sente è un'atleta che va anche bene va e che poi da tutto e non si risparmia mai forse questo è il difetto principale quindi intanto vediamo mori lorenzo che si è ben comportato insomma simone lanzi che vediamo altre tre tre poi marini a tre diciamo che solitamente a volte sono protagonisti nelle competizioni qui sono un pochino nel gruppo intermedio diciamo così c'è dire che la giornata è andata abbastanza bene la mongulea sembrava che piovesse invece dopo strada facendo è andata si è risolto tutto ecco comunque vediamo questa atleta che la marini si è costruttivo lammari atleta che è andata molto forte anche nei cross quindi è l'atleta che ormai è accreditata zona di buoni risultati che intanto a netti ecco questi e poi tartaglini e metrius malvini che sono che poi statigliano anche statigliano che sono molto forti anche loro hanno fatto la mezza maratona domenica sono arrivati nei primi venti e poi che abbiamo giuseppe cardelli altro atleta che è andato molto forte determinato anche lui sta preparando la matrona di di firenze poi vediamo in crescita per nivola che dopo ecco qui vediamo che jacine ha dovuto diciamo un pochino allentare po l'azione di testa qui siamo a san giustino probabilmente proprio il ritmo il ritmo impresso era troppo forte vedete qui questi atleti che stanno veramente spingendo forte stanno spingendo in questo frangente si è andato circa a 3 a 3 a chilometro quindi 20 allora sarebbe andato vediamo che stanno spingendo molto bene questi atleti del kenya sono tutti atleti del kenya che gareggiano qui nella nostra zona ormai da diversi diversi mesi finché riescono ad andare a buoni livelli questi e poi diamo in gheno proprio che andà forte poi casa senza un mungai e poi vediamo ancora al terzo posto vediamo chi lui e poi vedete quello con la bandana e agi quindi avevano già un vantaggio questi atleti nei confronti degli altri insomma quindi c'è un bel una qui siamo nella parte proprio intermedia e quella la parte favorevole che si va verso poi di turni verso il resto se ci dove incontriamo fra un chilometro qualcosa ci sono 7 800 metri sterrato poi ma strada bianca buonissimo quindi questo è favorevole scende appena appena e qui siamo proprio con nostri atleti diamo nio la vediamo cardelli vediamo ancora seguire verni insieme a alessandro annetti insomma ecco questo è un momento diciamo interlocutorio delle del percorso perché poi ancora c'è stata da ritornare a secci lama insomma ecco che intanto vediamo satigliano che è andato direi molto forte in questa occasione e poi la mongolia che invece ha fatto un po terra bruciata dietro perché la biagetti è molto distanziata rispetto alla battistrada eccoli qua vediamo anche malvin e poi tartaglini che comincia a accusare in questo caso che comincia un pochino accusare un po vediamo falomi grande atleta di qualche anno fa che sempre ecco e qui vediamo alla biagetti che c'è un passettino molto costante molto continuo diciamo forse adatta più per le distanze di lunga settata poi che vediamo ancora la tamburi anche lei accogliamo alla base la biagetti sorridente quindi ormai chiaramente lotta per la seconda piazza quindi cerca di contenere prima di partire sapevano che l'attacco e con la mongolia invece che corre leggera concorre bene sembra corre male rispetto a qualche altra persona un bel passo direi tutto sommato non male sempre in spinta poi addirittura insomma che la mongolia è arrivata diciannovesimo assoluto quindi vuol dire che anche poi è anche una bella ragazza io l'ho vista c'è una bella ragazza molte volte sono molto più brutte e chi vediamo ecco manuele graziani che è passata insieme insieme a abruzzone lì lo diamo di dietro e tartaglini poi ecco qui stiamo risalendo velocemente verso verso lama e qui c'è proprio ecco vediamo proprio vedi c'è un qualcuno c'è qualche problemino che si chiama zittoni mi sembra qui no queste zittoni poi dopo ecco davanti a lui vediamo ancora chi lui eccolo qua e poi vediamo se c'è flash ecco l'abbiamo superato agi che si ferma proprio in questo frangente qui siamo sulla testa della corsa che stiamo andando verso il traguardo con ingheno daniel kipkirui che veramente una corsa molto fluida molto dinamica quindi sarà un atleta che ritroveremo sicuramente alla marina città d'arezzo quindi vedremo un po' quello che succederà in questa in questa circostanza però ecco lui qui diamo proprio all'ultime battute di questa di questa gara che come abbiamo detto un pochino diciamo disturbata dalle piogge ma non più di tanto anzi corso una cosa che molto bene 41 e 38 il suo tempo finale quindi molto bene alle sue spalle il compagno diciamo il connazionale caccia sanson mungai e poi al terzo posto chi lui eric e kipkir e eccolo che quarto posto invece per il marocchino younes zituni dovrebbe giungere al traguardo ecco abbastanza approvato comunque vediamo che la gara la parte finale sono due tre chilometri molto molto dice direi impegnativi eccoli qua poi dopo il punto lì e che vediamo anche l'arrivo del primo italiano che conti fabio che procede proprio il nostro emanuele graziani che ha provato fino alla fine proprio per poter arrivare primo degli italiani invece arrivato settimo settimo assoluto poi assine il khalil al nono posto e decimo abruzzone e poi vediamo nio rattiglio quattordicesimo sta chiaramente progressivamente migliorando la sua posizione cerca di essere in forma proprio per la malattina cittadalezza e poi quello arriva anche di alessandro annetti che direi è andato è andato molto bene cia settesimo preceduto da cardelli sempre compagni di squadra che andiamo invece alla vincitrice la mongolia che va a vincere sorridente questa competizione al secondo abbiamo visto intanto pastorini e arriva poi la biagetti alla secondo posto anche lei è molto sorridente terzo posto per la silvia tamburi intanto vediamo cari tacchini e poi dovrebbe esserci anche l'arrivo della terza ecco qua vediamo l'arrivo anche della tamburi abbastanza provata direi così abbastanza provata ecco via via si susseguono un po gli arrivi di questi di questi concorrenti ma c'è da dire che per essere la mattina il pubblico c'era molto più di solito la mattina è solo per gli addetti e qui siamo passati invece alla base passeggiata la fiera sia anche qui un'altra bella giornata diciamo di sport ma soprattutto direi anche una giornata di spettacolo insomma di presenza numerica importante di questa di questa gara qui la partenza vedete sempre con i palloncini poi c'erano molti con non competitivi in questo caso che era predominante diciamo la fase quasi non competitiva circa 300 comunque 50 atleti arrivati a traguardo quindi tutto sommato è andata molto bene vediamo gli amici di sinalunga che cercano andare avanti preceduti dai che precedono diciamo la grande schiera dei partecipanti e poi dietro il numero diciamo di circa quasi mille non competitivi camminatori quant'altro a questo che hanno preso parte alla competizione quindi era nata così però con la competitiva ci sta bene anche la comprensione sono camminatori non dice niente percorso è bellissimo sono quattro anni che è stato cambiato impegnativo però percorso che scorre molto bene non è non è noioso quest'anno ci hanno messo qualche scaletta in più un paio di scalini che quando arrivi lì si sentono però percorso bello è stato variato appena appena quest'anno e penso che è meglio come l'hanno fatto quest'anno ecco qui tanto vediamo il gruppetto di testa molto folto molto diciamo anche equilibrato direi tutto sommato se non ci fosse stato il traguardo volante nella zona di sinalunga alto forse sarebbero rimasti tutti insieme senza frazionamenti e effettivamente lì c'era una decina di atleti che potevano competere alla vittoria alla vittoria finale ecco che vediamo anche qui proprio una carrillata di questi atleti che stanno scorrendo e che ovviamente anche supportati da una giornata direi gradevole hanno corso tranquillamente anche qui il numero anche di ecco che intanto vediamo salvatore basile che poi sarà costretto al ritiro proprio nelle finale di gara ultimi tre chilometri il risentimento speriamo che non sia niente di grave che mi toccherà smettere e prendere la bicicletta perché è già la seconda volta quest'anno che si fa male quindi speriamo di no perché un bell'atleta uno che è grintoso è uno che insomma arriva anche bene quindi viviamo geni genziana che la preceduta da roberta bellardinelli che era ancora più avanti e poi ancora più indietro ecco vediamo barneschi francesca quindi veramente sembrava quasi di cambiare totalmente anche l'assetto delle anche volpe partita lenta sapendo probabilmente che il percorso è impegnativo ma io penso che la volpe francesca non l'aveva mai fatto questa gara però che sicuramente non ha sentito parlare sapeva ha saputo adattarsi a questo questo percorso e qui vediamo ecco ecco siamo proprio nella parte anche che volge al centro di la sinaralunga vedete già il passo il passo molto accorciato è un piano nel tutto dritto che vedi dalla fine fino dalla partenza all'arrivo è quasi un chilometro vedete tutta quella gente su e qui vediamo proprio che questo che comincia a respirare qui un pochino vediamo che fortunati quello che è in terza posizione in questo momento qui che ha attirato ha tirato proprio il col ha cercato di resistere a cannucci e a niola per potersi a giudicare il traguardo volante che era posto proprio nel centro di sinarunga e proprio nel tratto conclusivo ha cercato in tutti i modi di lo vediamo abbastanza impegnato ma anche stanco sotto certi aspetti però ci ha provato ha detto che non gli altri non hanno reagito e quindi lui ha a quel punto lì ha tentato tutto per tutto almeno per vincere il traguardo volante pur sapendo che poi doveva entrare nei primi dieci perché se non fosse rientrare nei primi dieci non aveva diritto al traguardo al vittorio del traguardo volante quindi già troviamo cannucci che sembra rientrato rispetto a qualche gara fa che era un po sottotono insomma vediamo ancora la volata mente proprio la volata e qui c'è proprio il traguardo volante che in cui stanno transitando anche gli altri concorrenti abbastanza spicciolata proprio dovuto al ritmo impresso anche dai da battistrada ecco qui vediamo ancora anche i bracciali e bracciali giovane bracciali insieme a morito ma quindi sarebbe questi giovani emergenti speriamo che possono ancora continuare poi in bare che anche se è un pochino fermo impegnati con gli studi quindi da adesso in poi ci hanno altri impegni tutti gli studenti universitari che al primo anno che al secondo anno quindi sono fuori sede sono fuori classe quindi e qui stanno ritornando facendo una divagazione proprio nel centro di sinalunga questa divagazione che stanno riportando gli atleti nella parte un pochino più bassa del paese di sinalunga per andare dopo ecco che vediamo scendi genziana che qui transita solitaria il suo vantaggio anche nei confronti vedete anche della roberta velardinelli che dovrebbe essere seconda abbastanza netto ecco la vediamo adesso la vediamo quindi sono circa 150 metri che ha guadagnato proprio in questo tratto qui addirittura scella lacrimini in quarta posizione non vediamo ancora la barneschi francesca che era molto più arretrata che vediamo l'altra rivagazione direi interessante su questo spaccato anche di di ambiente che porta gli atleti poi nella parte più bassa del tracciato e qui vediamo proprio ancora la selezione abbastanza netta vediamo che fortunati ha perso qualche posizione proprio dietro a quella spinta iniziale che aveva fatto invece in persteri abbiamo visto sia vannuccini che che guidelli che stanno inseguendo bettarelli con il solito movimento ondulatorio della testa che ovviamente a volte gli diciamo di fermarsi ma non ancora non ce la fa carlini che è andato bene poi vediamo che volpi ecco che vediamo la scennicienziana insieme a questo gruppo molto nutrito di amatori e vediamo che scaglia che ormai diciamo è diventato un po il dominatore della categoria argento poi servoli poi vediamo ciò lì poi ancora vediamo anche di cristo maggi maurizio poi della lunga ecco si sossegono un po concorrenti ma vedete il distacco che ha nei confronti di belardinelli che adesso transita quindi veramente aumentato il suo vantaggio nei confronti della verità finisce la salita poi addirittura c'è sempre lacrimini in terza posizione in questo momento qui quindi vedete gli stacchi sono molto molto lunghi e ancora non si vede l'arrivo di barneschi quindi per capire quanto aveva di vantaggio nella parte iniziale viviamo in discesa abbiamo ecco fabio guidelli che cerca di rientrare nei confronti di francesco vannuccini che a sua volta ovviamente cerca di tallonare alessandro annetti che sono ormai i due avversari reciprocici che diciamo lottano per la vittoria finale del gran prix quindi ogni posizione è determinante e qui i due protagonisti niola e cannucci ovviamente forse niola se io fossi stato nelle sue condizioni non avrei portato in volata o non porterei in volata cannucci quindi qui intanto rivediamo anche banelli che ha fatto dire anche in un'annata molto molto buona è andato sempre molto forte quindi atleta che non demorde mai non demorde anche lui è tenace come come la firme il consome che vediamo mori in altro atleta che sta correndo facilmente quindi non c'ha intoppi il ragazzo giovane soprattutto molto molto volenteroso e quindi può ancora diciamo ambire avete qualche risultato anche anche buono qui intanto siamo con fabio guidelli che chiaramente vedi sono lì tallonato circa l'alessandro annetti che anche lui controlla la situazione che dietro non non si faccia raggiungere da da vannuccini e poi dopo ci sono i due battistrada che adesso stanno si stanno portando verso la zona del traguardo direi che gli amici di sinalunga ha fatto un bel lavoro da punto di vista organizzativo hanno impegnato molte forze però ecco vengono ripagati anche da dal successo che nella partecipazione anche degli altri stessi intanto proprio siamo nella parte quasi finale l'ultimo 500 metri circa delle a conclusione c'è un'altra questo ritino poi dopo una doppia curva che li mette poi al traguardo finale ancora incertezza di come potrà andare diciamo il finale vedete ancora abbastanza in spinta entrambi gli atleti sembra molto concentrato a tiglioni o la nei confronti di cannucci che sembra un pochino forse più soffrire questa cosa però sappiamo benissimo che poi nel finale escono fuori anche certi meccanismi di volata che indipendentemente da tutto possono modificare qualsiasi asset che vediamo proprio l'attacco di cannucci che nei confronti di nivola che purtroppo non riesce a cambiare e si rimane rimane un pochino sul sul passo e quindi cannucci solamente vede il questo vantaggio e quindi acquisisce ancora più forza per poter giungere alla conclusione e vincere questa edizione numero 43 della passeggiata alla fiera di sinalunga quindi grande risultato grande performance da parte dell'atleta senese che corre in colori del del fiorino di firenze eccolo qui eccolo qua di fronte quindi la trigamera frontale che porta al traguardo primo il secondo che a tiglioni ora e poi al terzo posto vediamo l'arrivo anche di alessandro alessandro annetti grande gara comunque anche alessandro che direi che sta nonostante tutto sta andando sempre molto forte e vanno cino stesso è andato molto forte direi che stanno forse l'annata migliore che ha fatto anche sicuramente anche perché si è trovato lì ai vertici del grand prix e quindi è stato di insistere fino in fondo poi vediamo fabio guidelli eccolo qua anche la garanzia poi il giovane lorenzo mori dato molto molto bene di questi atleti veramente ancora e l'anno prossimo sarà promessa giovanissima qui siamo e qui siamo con la terza classificata al momento che la belardinelli seconda sorpresa abbiamo la cennigenziana che l'avevamo lasciata in testa con un vantaggio abbastanza importante e qui invece la vediamo che è stata superata proprio nella parte diciamo negli ultimi l'ultimo chilometro e mezzo dalla battistrada che adesso andremo ad inquadrare che è francesca barneschi che ha fatto un recupero diciamo ma progressivo ha recuperato tantissima recuperata ragazzi ecco qui la vediamo proprio abbastanza però ecco la detta di lei è stata molto molto diciamo ecco molto molto propositiva nel senso che è riuscita a migliorare gradatamente quindi senza andare diciamo interessarsi di quello che c'era davanti ha fatto il suo passo in progressione è riuscita ad acquistare guardate anche di questo era insieme che adesso l'ha lasciato e sta spingendo molto bene vediamo proprio sorridente nella parte conclusiva di questa gara eccola qua che ancora ancora in spinta l'atleta della politica il campino che sta giungendo a conclusione di questa gara con soddisfazione perché probabilmente anche lei non si immaginava di poter vincere questa competizione anche perché era molto distanziata da dalle la testa della corsa eccola qua vediamo vola anche adesso e che vediamo l'arrivo della protagonista in campo femminile terminare questa questa prova eccola qui grande grande diciamo soddisfazione da parte dell'atleta aretina e poi vediamo al secondo posto anche sceni genziana comunque sia soddisfatta anche lei anche se probabilmente un pizzico di delusione c'è stata quando pensi che sia tutto il vantaggio pensi e terza belardinelli e roberta poi vediamo a seguire ancora altre trete poi anche al sesto posto vediamo la nicoletta sanarelli che segue insomma poi ecco diverse diverse del settore femminile che hanno completato la gara diciamo nelle poi una dietro l'altra insomma quindi grandi distacchi eccetto le prime due o tre che erano poi determinate la crimini infatti è rimasta e qui la volpe francesca che la salita non la digerisce molto e qui invece siamo mi sembra eccolo qua e qui ancora siamo invece in una fase preliminare di quello che accadrà fra dieci giorni la ventesima edizione della arezzo alfa maraton maratonia città di arezzo che rivedrà nel palcoscenico aretino tanti partecipanti al momento diciamo non sono tanti per la carte agonistica 700 gli iscritti quando ancora mancano 10 giorni alla parte alla gara però diciamo che noi pensiamo di poter superare abbondantemente gli 800 atleti agonisti non sono tanto tanti tanti però considerando anche la presenza di tantissime competizioni e gli atleti a volte si distribuiscono un po a destra e a manca quindi chiaro che questo fa diciamo un pochino abbassare il numero di presenze però sarà sempre una presenza qualitativa a moreno sicuramente qualitativa sì semmai a livello di partecipazione mancheranno un centinaio di persone rispetto a questa edizione qui però di quelli agonisti la non competitiva sarà come al solito molto molto partecipata perché la presenza delle scuole con il cuore in corsa stiamo notando che si stanno presentando diverse scuole e quindi saranno presenti con i propri alunni a sostenere molte diverse scuole ci sono anche molti non competitivi che stanno venendo anche la polisportiva meno male ci trovano sempre qualcuno ultimamente vengono a fare l'iscrizione per la non competitiva c'è da dire che quest'anno noi saremo il ritrovo sarà in piazza san jacopo il venerdì e il sabato dalla mattina siamo lì a disposizione per consegnare pettorali e per chi volesse iscriversi nella non competitiva ecco dobbiamo dire anche la presenza di atleti provenienti dagli stati uniti dal dalla danimarca dalla dalla francia caccia quindi insomma questi sono atleti non quelli competitive e top che ci saranno chiaramente provenienti da diverse parti del mondo ma questi ecco persone che hanno diciamo preso come punto di riferimento arezzo quindi questo ci fa piacere vuol dire che la manifestazione comincia ad aprire anche le proprie frontiere sotto certi aspetti ovviamente il palcoscenico sarà sempre piazza guido monaco via roma questo è indiscusso come hai detto te moreno i giorni precedenti saranno diciamo si vestiti con questo grande capannone che sarà allestito in piazza san jacopo sì ma ci saranno solo la consegna pettorale esatto quindi saranno anche iniziative collaterali come l'incontro con gli studenti del di alcune scuole sull'ambiente con esa impianti e con e con anche il il discorso anche del diabete che saranno lì proprio a far conoscere ancora più le dinamiche le presenze quindi sarà un'occasione anche del sociale quindi la malattina cittadalezzo diventa sociale sotto tutti i punti di vista sia da un punto di vista anche di solidarietà per quanto riguarda proprio reperimento dei fondi per acquistare i fibrillatori per le scuole ma anche di conoscenza per quanto riguarda il diabete per quanto riguarda l'ambiente spreco zero quindi tutte queste motivazioni che sicuramente arricchiscono la il palcoscenico della malattina città d'arezzo quindi anche la massa di persone che parteciperà parteciperà molto volentieri saranno i camminatori ci sarà la corsa la camminata sportiva ci saranno e poi saranno chiaramente gli atleti di spicco che vediamo maio che sarà un altro dei protagonisti di questa competizione ma insieme a lui ci sarà anche che mai un altro atleta fortissimo che ha un personale intorno allora vincitrice vincitori della roma ostia e vincitore anche della maratona di udine quindi tornerà apposta puro sangue tornerà apposta dal kenia proprio per la malattina città d'arezzo e poi sarà il nostro stefano la rosa quindi l'azzurro che cercherà in qualche modo di ostacolare diciamo il pregio minuto degli degli africani anche se l'anno scorso effettivamente benché venne lì sotto tono fece un ottimo un'ottima prestazione un'ora zero tre vicino al suo personale quindi arrivo settimo mi sembra sesto settimo che ecco che intanto vedi 12 13 per lo scorso anno quest'anno gli atleti hanno sono proposti di fare ancora meglio perché saranno presenti anche questa data qui sarà presente e loro sanno che più forte vanno e più portano a casa quindi se no no ecco sarà l'occasione anche per ormai percorso poi è quello collaudato quello dello scorso anno quindi saranno due giri saranno ovviamente saranno chiusi quasi completamente al traffico quindi diciamo che è fatta eccezione per qualche tratto un pochino più diciamo a margine della città che lascerà un pochino più di spazio il resto il resto sarà completamente chiuso al traffico ecco anche a livello femminile ci sarà lotta serratissima anno scorso fu un grande esplope che fecero un tempo eccezionale l'atleta kenyana che vinse la gara bene con questo ovviamente noi si appuntamento anche con alcuni servizi collaterali che faremo in occasione proprio della rezzo alfamartono edizione numero 20 quindi l'appuntamento sarà probabilmente con qualche flash la prossima settimana e poi sicuramente con le immagini riferite che arezzo tv e poi anche la rai diffonderà a livello nazionale per quanto riguarda questa maratonina città di arezzo ciao 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 ciao